Ciao, sono Michele Cento, come tutti voi, anche io, sono sintonizzato sulla più bella Radio Beat Eaters. Prestissimo a musicamente e parlando, con degli spante, vi presento il mio nuovo singolo, Brivido. Spero che vi piaccia e mi raccomando, ascoltate sempre, sempre, sempre Radio Beat Eaters. E tu fammi sentire questo brivido sulla mia pelle, e tu fammi volare, dimmi che sei tu l'amore grande.